Chi è un comico? Un comico è uno che tu lo vedi e ti metti a ridere, perché se raccontiamo una cassetta, o diciamo una battuta, facciamo ridere pure io e te che siamo negati, ma se quello entra, apre un cassetto e tu ti metti a ridere è perché quello è un comico, ecco quello è il comico puro, vero, come la Totò, bisogna che facesse nulla. È una forza che uno ha dentro, c'è che ha un altro tipo di attrazione, c'è che ha una certa autorità che sprigiona, a parte tutto, forse a volte senza neanche parlare, eccetera, e c'è chi sprigiona questa comicità proprio per qualche cosa che gli esce un po' da dentro, anche per la conformazione del viso, anche per come riesce ad atteggiarsi, eccetera. L'attore che può fare la commedia, cioè che può far sorridere, si può anche diventare anche se serve un po' di predisposizione. Comico, quello ci nasci, non te lo dà nessuno. Il talento comico, tu puoi studiare quanto vuoi, ma se non fa ridere, non fa ridere, non c'è niente. È come la persona che è simpatica, e quella è simpatica e l'altra è l'attivato. È un talento, però studiando si può migliorare molto, si può, io ho visto tanta gente migliorare, ma molto, però una base ci vuole. La comicità è rompere lo schema, no? È quello che sembra la mano nel cassetto. Siccome è una cosa che non fa nessuno, siccome rompi un certo schema, la gente dice, tu inciampi, la gente dovrebbe piagna, invece ridere. È l'imprevedibile, è quello che ci si aspetta che accada, invece accade. Il contrario di quello che uno si aspetta. Poi sai, la vera definizione della comicità non l'ha mai data nessuno, in realtà. Capito? Poi, un conto poi è la comicità e un conto è la satira. Cioè, quello che io ho fatto sempre, a parte delle cose, è chiaro che la satira si deve giovare anche di una parte di comicità, proprio perché muovendo il riso aumenta la carica satirica di quello che dici. Però la satira è una cosa diversa dalla comicità, cioè la satira è proprio il prendere di punta una società e descriverne e additarne i vizi o le manchevolezze o le debolezze. Ecco, questo è il compito del satirico, più che del satiro.